Vi amo moltissimo e quindi ho deciso di esserci, così Barbara D'Urso ha esordito nella puntata di ieri a pomeriggio 5. La conduttrice infatti si è presentata in diretta sulla rete Mediaset completamente afona e visibilmente sofferente. Questa è la mia situazione dopo tre pillole di cortisone, ha dichiarato, ma non potevo lasciarvi senza la vostra conduttrice preferita. Questo in sostanza il messaggio lanciato da Barbara D'Urso, messaggio che però non è stato ben colto dal web. Il popolo di Twitter infatti ha apprezzato la Barbara D'Urso senza voce proprio perché completamente sofferente e afona. La conduttrice è stata quindi nell'occhio del mirino dei tweet al vetriolo, ma nonostante questo si è rivelata a fine giornata anche una volta campionessa di Cher.